La città vista come un corpo umano, il cui apparato circolatorio è la viabilità stradale. Secondo il noto designer Fabio Novembre, tra i più influenti del panorama italiano, rischeremo un ictus ogni giorno a causa, principalmente, della mobilità. Nonostante il traffico rappresenti una fonte di stress altissimo, soprattutto nelle grandi città, anche a Lecce la politica deve, secondo Novembre, prendere delle decisioni più coraggiose. Bisogna dire un fermo no alle autovetture. Il pensiero dell'architetto leccese è stato espresso durante l'incontro tenutosi al Museo Castromediano, i corpi e lo spazio urbano pubblico. Parla della sua personale esperienza, raccontando di aver trascorso l'estate a Lecce e che, volendo cenare nel centro storico, si è reso conto che parcheggiare è diventato un vero e proprio incubo. Ben 40 minuti per riuscire nell'impresa. Per questo motivo, sottolinea quanto sia necessario avere più coraggio da parte della politica, reinventando le città e rinunciando all'auto. Il tentativo da parte dell'attuale amministrazione di invertire la rotta grazie alla realizzazione di piste ciclabili divide ancora i cittadini. Ma è sempre il designer leccese, trapiantato a Milano, a mettere in evidenza che a New York nessuno possiede un'automobile. Le persone fanno i chilometri a piedi senza rendersene conto. A Lecce, quindi, sarebbe indispensabile una cinta esterna dove lasciare l'auto e poter prendere una bici, i bus o i mezzi elettrici. Abitudine che però, quella dell'utilizzo dei trasporti pubblici, non è niente affatto comune tra leccesi. Il problema, continua Fabio Novembre, non si risolve solo con le piste ciclabili, che sono solo un cerottino su una ferita molto grossa. Insomma, nel suo intervento, l'architetto Novembre, ribadendo il suo apprezzamento nei confronti dell'attuale sindaco, lo sprona a fare di più, una vera e propria guerra alle auto.